Ed eccoci alla nostra piccola rubrica per chi ha un amico, un cugino, un collega, una madre, un padre, un fidanzato che va dal nutrizionista ma non ha bisogno che voi diciate nulla. Quindi se guardando il video ti riconosci in quello che dico, beh tutto sommato forse quelle cose non serve realmente dirle. Ah e cosa ti dà da mangiare? Davvero quella roba lì? Oh io non la mangerei mai. Sì, mangio quello che mi ha detto di mangiare e il fatto che a te non piaccia o che non ti vada di mangiarlo non implica il fatto che tu debba farlo, sono io quello a dieta, tu no. Perciò di preciso, la mia dieta che cosa ti toglie?